Sembrerebbe una partita equilibrata quella tra Atletico Madrid e Manchester United che chiude il prima giornata del gruppo B ma si rivelerà uno show dei Colchoneros dominio assoluto che inizia già dal secondo minuto palla messa in mezzo da Ivan Mortillo Fernandez, la deviazione di Nehal Scavalca, il portiere dello United e porta in vantaggio l'Atletico già dopo due minuti, Atletico 1, qui si vede la deviazione, la deviazione del difensore dello United che inganna il portiere uno show dicevamo, l'Atletico da spettacolo si porta sul 2-0, stavolta il gol è tutto di Ivan Mortillo Fernandez 2-0 e tifosi spagnoli festanti sugli spalti, United davvero in grande difficoltà contro il giro palla e la qualità e la sintonia della formazione spagnola che guardate con quale facilità arriva in porta, ancora una volta Ivan Mortillo Fernandez, la doppietta dell'attaccante spagnolo 3-0 in meno di 10 minuti, l'Atletico ha già archiviato la pratica, una giocata davvero di squadra, davvero sopraffina della formazione spagnola il Manchester ci prova, in realtà sono tentativi isolati che qui portano la firma del numero 10, Schillesi ma senza grande precisione e allora nel finale di tempo arriva anche il poker con il numero 2 Quintana Montero che parte da solo da centro campo e con un diagonale batte per la quarta volta il portiere inglese For Show, 4-0 a fine primo tempo, davvero severissima la punizione per gli inglesi non si ferma l'Atletico quasi con tutti gli effettivi cambiati ma arriva in quinto gol dopo meno di un minuto lo mette a segno Franco Ruiz, 5-0 per il numero 7 dell'Atletico Alberto Franco Ruiz, davvero una manita in grande anticipo ma l'Atletico non si ferma, non si ferma e continua a dare spettacolo, l'azione si sviluppa sulla destra, c'è il pallone al centro verrà recapitato in rete da Pereira Román, 6-0 Atletico Madrid, ancora un marcatore diverso per l'Atletico si tratta stavolta di Samuel Pereira Román sulla iniziativa da destra della formazione madrilena c'è ancora spazio per un gol, un gol che porta la firma, lo stiamo per vedere adesso, la parata di For Show arriva Bernal al volo di destro, spacca la porta, 7-0 la delusione dei giocatori inglesi il trionfo dell'Atletico che si candida a grande favorita anche per la vittoria finale, Atletico 7-0 United Zero